Uè, non so se ve ne siete accorti ma ho subito un'altra shitstorm, quindi cosa c'è di meglio se farci un video sopra, almeno la monetizzo e serve a qualcosa. Allora, vi racconto un po' cosa è successo, chiaramente leggendo e rispondendo un po' ai commenti nel frattempo e poi alla fine faccio qualche considerazione. Quindi soprattutto se siete tra gli autori di queste perle, magari restate fino alla fine così magari c'è anche qualcosa di più interessante. Oh, il video è totalmente unscripted, quindi vado un po' a braccio, quindi scusatemi se magari ripeto le robe, vado un po' a caso, però non c'ho voglia di scrivere una puntata apposta insomma. Allora, tutto è cominciato domenica, avevo da qualche giorno pubblicato il mio ultimo video, Fascisti su Telegram, da cui potrete immaginare il fil rouge, il tema, la croce e la delizia di questa ultima shitstorm. Nello specifico il video, che potete chiaramente recuperarvi sul mio canale, andava a parlare della cosiddetta Galassia Nera, un'inchiesta dell'anno scorso dell'Ampi che aveva fatto una cernita dei contenuti neofascisti su Telegram, anche andando ad indagare i vari gruppi che sono presenti. Ma niente spoiler. Allora, in pratica, com'è andata? Allora, questa domenica ero ad un evento con degli amici, un evento un po' particolare, era pomeriggio, e ho spento il telefono per due ore, insomma, perché era per stare un po' in silenzio, per seguire bene, tra l'altro cosa stupenda da fare, un po' di pace ogni tanto. Quindi esco, accendo il cellulare e scopro con mia grande sorpresa di aver ricevuto molti commenti sul mio ultimo video, tutti nel corso di quelle due ore. Che io comunque me ne accorgo, perché anche se magari non rispondo a tutti, perché non è che sto sempre lì dietro, non ho un canale grandissimo, quindi se arrivano tanti commenti insieme, vuol dire che è successo qualcosa. O è stato condiviso il video su qualche canale più grosso, qualche streamer ci ha fatto la reaction, insomma, su Twitch sono successe un paio di robe qua, oppure una shitstorm. Vado a dare un'occhiata ai commenti, mentre tornavo a casa al metro e mi metto a rispondere un po' a qualcuno, e mi rendo conto che sono tutti stranamente negativi. Che è impossibile, visto che i miei video sono incredibilmente belli e stupendi, e quindi capisco che c'è qualcosa che non va. Che tipo di commenti erano? Beh, allora, molti erano in realtà tutto sommato simpatici, perché so che può essere strano a molti, ma è possibile esprimere il proprio dissenso, il proprio anche disprezzo verso un contenuto che non ci piace, anche con dei modi educati o simpatici. Altri erano semplici insulti, un po' tipo questi, no? Un po' per sfogarsi, solite robe, faccio persino fatica a farci una reaction, insomma, non so che dire. E alcuni erano tipo questi. Se cerchi un fascista, ti basta guardare allo specchio. No, mannaggia, pesantissimo questa, non me l'aspettavo, cacchio mo', mi tocca cambiare il poster del Bratipo con una foto del Duce. No, chiaramente quello no, però se lo fai andando ad insultare gente solo perché è nera, perché è omosessuale, perché è una donna che va coi neri, cioè, quello diventa odio. Dai, un po' di un'istante intellettuale almeno. Tanto per cominciare, come diavolo porti quei capelli? È arrivato Camerata Fashion Stylist. Vabbè, sul resto c'è poco da dire. Non te la prendere, giuro, non lo faccio per prenderti in giro, però non so come altro descriverlo in questo momento. Hai capito male quello che c'è nel video, sia sul punto 2 che sul punto 3. Se vuoi te lo puoi riguardare, se no, vabbè, mi spiace. Mamma quanto frigni. Io! Cioè, ma qua, ma qua, ma qua ci sta, ci sta ribaltando la situazione. Cioè, io faccio un video in cui semplicemente mostro qualcosa, non vado neanche lì a spulciare, a criticarla seriamente, se non facendo qualche battuta, e un determinato gruppo organizza una shitstorm in cui andare ad insultarmi e io sono quello che frigna. No, esistono persone a cui non piace essere sodomizzate e uccise da subumani, che cosa sconvolgente. È un casino, guarda, non si può più andare in giro, non si può più camminare per strada che saltano giù dagli alberi a cercare di incularti. Poi, all'improvviso, un commento in particolare attira la mia attenzione. Interessante, amico, ma sfortunatamente il tuo gruppo Telegram è stato assediato dalla divisione Troll Waffen. E lì, un nuovo capitolo a questa emozionante storia va ad aggiungersi. Perché io, e ovviamente sono un pessimo gestore di tutti i social media su cui sono, a parte YouTube, io sono su TikTok, su Telegram e su Instagram, ma faccio schifo. Non ho mai usato neanche quei social network, perché sono un vecchio dentro, quindi non mi ero manco accorto di niente, però vado a vedere su Telegram. E quindi niente, scopro che questi qua hanno passato il pomeriggio ad inviarmi, all'epoca erano 3.000, poi sono diventati oltre 5.000, messaggi, sticker, immagini. Oh, mi spiace per voi iscritti al canale, se avevate le notifiche accese, mi dispiace che vi hanno rotto le scatole. Vabbè, in pratica poi sono andato a recuperarmi, cosa mi avessero mandato, principalmente dei meme molto divertenti, tipo questo, delle gif spammate a ripetizione, di svastiche, di mussolini, di vari gerarchi nazisti, dei video porno interaziali gay dalle loro gallerie private e anche dei video, questi un po' più di cattivo gusto, ecco, di gente che veniva menata o pugnalata o decapitata. Raga, dai, su, per favore, crescete. Comunque, vabbè, è molto più utile di quello che sembri, perché ho scoperto molte cose su di me che non sapevo e quindi è un po' come risparmiare soldi, non devo neanche andare dallo psicanalista per conoscermi meglio. Ho scoperto che sono gay e anche handicappato. Ho scoperto di essere un antifa e di essere stato picchiato. Vabbè, ho scoperto di essere squalido e tante altre cose. Ho scoperto di dover aiutare gli immigrati invece di stare lì a vedere i fascisti e che sono persone compassionevoli che mi consigliano di aiutare gli italiani in povertà anziché fare il globaliota. Vabbè, a questo punto, visto che ci sono presi da briga di venire in massa sul mio canale YouTube, sul mio canale Telegram, mi è sembrato giusto provare anch'io, insomma, ad andare a presentarmi alle porte di casa loro. E quindi sono tornato su Telegram, ho fatto una ricerca inversa sul mio video e ho scoperto dove era stato spammato. Insomma, era in questo gruppo dal quale avevo preso degli screenshot per fare il video, insomma, in cui si sono organizzati poi per andare a organizzare questa manifestazione. Letteralmente questo omuncolo è dentro questa chat ed ha citato molti dei messaggi di queste settimane. Piatelo, piatelo! C'è persino uno che si è preso la briga di cambiare la propria immagine del profilo per omaggiarmi. Ti ringrazio, anche se hai un po' da imparare sulle doti da Photoshop. Comunque anche qui c'era qualche commento interessante. Oltre, vabbè, ai soliti insulti. Allora, intanto c'è qualcuno che parla di offese. Allora, mettiamo in chiaro una cosa. Io, in quel video, come in qualunque altro video, non ho offeso nessuno. Non ho mai insultato nessuno. Non ho mai pubblicato informazioni che potessero ricondurre agli autori di qualsiasi commento. Proprio perché il mio scopo non è andare a mostrare la persona, a prenderla in giro. Io, al massimo, prendo in giro le idee, quelle che ritengo essere sbagliate, a torto o a ragione. Quello che faccio è una semplice critica. Lo faccio, ovviamente, io ironicamente, perché il mio canale è fatto così. Non è un canale di critica seria, fatta con la giacca e la cravatta, o solo la giacca. E quindi, insomma, dobbiamo capire bene le differenze. Capisco che possiate provare rabbia, perché, dal vostro punto di vista, potrei essere stato irrispettoso verso la vostra ideologia, però, nel senso, non ha senso che vi triggeriate in questo modo. Non è sano farsi rodere il fegato così tanto. Un'altra riflessione che voglio fare è sull'identificazione in un'ideologia e sul distaccamento dalla stessa. Uno, ad esempio, commenta, avete notato i messaggi da lui mostrati? Sembravano tutti da cinquantenne di Facebook. Oltre ad un cherry picking gigantesco, tipico degli antifascisti, sembrano pure fabbricati. Un altro, ironico, come ci chiama comunità di haters, perché amiamo la nostra razza e il nostro paese. Un altro ancora, che poi giudicano noi quando siamo circondati da immigrati, froci, femministe, tossici, eccetera. Andiamo con ordine. Identificazione nell'ideologia. Mi pare chiaro che, per quanto vi siate triggerati, crediate molto in quello, diciamo, di cui discutete, di quello di cui vi occupate. Però allo stesso tempo è come se lo rinnegaste, perché è abbastanza chiaro che ci sia un astio verso determinate categorie di persone. Però sembra che non se ne prenda coscienza. E allora perché? Perché vi vergognate? Perché avete paura di essere giudicati per le vostre idee? O proprio non vi rendete conto di quello che sono. Cioè, nel senso, non sto dicendo che siano sbagliate, seppur lo pensi, però non è quello il ragionamento che sto facendo. Il ragionamento è è chiaro che sia così. Perché non prenderne coscienza? Perché negarlo? Ma soprattutto, anche se voi dovesse sentirvi come una squadra, non pensate che all'esterno tutti lo facciano. Io non mi sento di star giocando la mia partita contro qualcuno. Andare a incasellarmi in una categoria che può essere cos'è che mi scrivete? Il sinistroide, la zecca, senza nemmeno conoscermi. Dopo aver visto un video, due video, cioè fa solo capire che agite di pancia senza riflettere, senza neanche pensare a quello che scrivete. Voi non sapete chi sono io. Voi avete visto dei video in cui tra l'altro recito un'altra riflessione da vecchietto che ha vissuto la vita e che ha fatto la guerra cosa che non sono. Però vabbè. Non identificatevi troppo. in un'ideologia. Siete voi stessi. Non dovete essere per forza d'accordo su qualsiasi cosa. Potete anche distaccarvi, potete manifestare il vostro dissenso, potete usare la vostra testa e pensare di non agire come dei droidi senza cervello che vanno a spammare 5.000 sticker. Perché? Vi fa stare bene la cosa, manco me ne ero accorto se proprio può farvi, nel senso, no, non voglio farvi rosicare, però nel senso, perché? Vi fa stare bene far stare male agli altri, pensare di farlo, pensate di dar fastidio, è una cosa sana provare piacere dai dispiaceri altrui? Ha senso? Cioè, piuttosto, se siete convinti delle vostre tesi, potete provare ad argomentarle, cioè, se no, nel senso, fate solo la figura degli immaturi. Che poi, mi permetto, mi permetto di darvi qualche consiglio invece pratico, visto che è chiaro come il sole che siete molto giovani da come scrivete, da come agite, banalmente vi mettete d'accordo per scrivere messaggi come se non foste, come se non provenissero i gruppi da cui proveniate, ma è palese la cosa, cioè, nel senso. Raga, se fate delle cose molto borderline, vi prego, almeno cambiate le foto, cambiate il nickname, oscurate i numeri di telefono, sono cose che sono scritte pure nel vostro gruppo, Dio Bono, e poi un'ultima roba che mi pare interessante. Alcuni hanno commentato che sarebbe pubblicità non retribuita, l'oasi della popolarità, o che dovrebbero ringraziarmi per la pubblicità. Vabbè, a parte il fatto che non ho mai citato né messo link diretti ai gruppi, ma quelli sono dettagli. Secondo me questa cosa non vale più, so che non c'entra nulla col video, però mi pareva interessante parlarne. Cioè, ormai, chiunque può avere visibilità, chiunque pagando banalmente può avere una reach pazzesca. Ormai siamo nell'epoca del sentiment, non più del come quando si spammava in televisione e si vincevano le elezioni. Guardate tutti i vari fenomeni trash, hanno fatto milioni di visualizzazioni, pensate che gli sia servito qualcosa nella vita? Secondo me, ormai quality is over quantity. E niente, dai, più o meno basta per oggi. Allora, in sintesi, che dire? Mi dispiace sinceramente che ve la siate presa in questo modo. Ovviamente non era mia intenzione offendere, anche se non condivido nessuna praticamente delle ideologie presenti nel vostro gruppo. Chiaramente io cerco sempre di fare video per criticare ciò su cui non vado d'accordo. Faccio anche delle battute che possono magari sembrare, anzi no, sono delle prese in giro, non sto a nascondermi dietro un dito. Però, insomma, una cosa è la critica, una cosa è appunto l'offesa, sono cose diverse, non volevo offendere nessuno. E niente, dai, questo è tutto per oggi. spero che sia stato un video comunque piacevole. Niente, che mi sento di dire? Ovviamente se qualcuno dovesse trovarsi nella mia situazione non prendetevela. Chiaramente pensateci due volte prima di andare su internet facendo delle cose controverse. Chiaramente queste cose non si fanno per popolarità, si fanno per altri motivi, se no si farebbero tutti i canali come in me contro te. però pare che qualcuno ancora queste cose non le abbia capite. A voi invece autori di tutti questi commenti, raga, mi dispiace che vi siate triggerati così tanto, non vivetevela così male. Cioè, io non me la vivo male, non fatelo neanche voi. Se veramente sentite il bisogno di fare queste cose, boh, non so, c'è qualcosa di malsano secondo me. Fatevi una riflessione, magari mi sbaglio ovviamente, però rifletteteci nella vostra cameretta prima di andare a dormire. Si può anche avere quelle idee senza dover per forza prendersi male. Cioè, tutti i commenti divertenti, nel senso, sono ragazzi intelligenti, si capisce. Nel senso, quelli li apprezzo, anche se hanno idee diverse dalle mie. Ciao!